è arrivato è nintendo 64 oltre l'immaginabile 64 vita nintendo 64 cambia per sempre il tuo modo di giocare controllo rivoluzionario per navigare a 360 gradi in un vero mondo tridimensionale più definizione più velocità suono digitale esterno nintendo 64 il futuro è qui ora nintendo 64 l'originale con due anni di garanzia solo da g